L'elemento della fede, sia poter essere cattolica, sia quella valdese, protestante, è un elemento che è presente in moltissime di queste lettere ed è un elemento che, se noto l'esempio di Gervis, ripeto perché da questo punto di vista c'è un corpus di lettere più tricluriti di questo tipo di corrispondenza, l'elemento religioso è un elemento che compare anche negli ultimi messaggi, dove quando capisce che non c'è più nulla da fare, quell'elemento diventa effettivamente molto forte e compare però in tutto il carteggio perché è questo elemento più accentuato in certi momenti, meno accentuato, però quando scrive alla moglie che scrive in sua giornata carceraria e dice, chiede alla Bibbia, la Bibbia mia è di conforto, gli ultimi messaggi sono veramente drammatici, tragici perché capisce che non c'è più nulla da fare e il punto di riferimento, questo punto è un valdese credente, profondamente credente, il punto di riferimento diventa questa sua fede. Allora questo è un altro elemento da tenere presente, perché siccome ovviamente c'è chi crede in un zampone o in Bevilacqua diranno, si riferiranno ai propri ideali, al socialismo, al comunismo, questo sì. Grazie per la visione!